Bilanci ed atti gestionali dei disciolti Consorzio Asi Liquidazione e degli uffici periferici dell'IRSAP verranno passati al setaccio da una commissione che si occuperà dello svolgimento di una ispezione straordinaria finalizzata ad acquisire informazioni e dettagli nonché accertare eventuali violazioni di legge che abbiano potuto produrre danni erariali. Lo afferma l'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello accogliendo un'istanza che proprio in questa direzione nei giorni scorsi aveva sollecitato il commissario ad acta onorevole Maria Grazia Brandara. Con la istituzione dell'IRSAP, afferma il commissario Brandara, sono state stravolte le originarie competenze dei Consorzi Asi, oggi in liquidazione, e dei loro dirigenti. Tale delicata fase continua è stata spesso accompagnata da esposti e campagne mediatiche relative a presunti danni erariali e presunte irregolarità anche nel delicato settore dell'applicazione della normativa antimafia. Per questo, chiarisce, ho chiesto all'assessore Lobello, dato che l'IRSAP non è dotato di un servizio ispettivo interno, di attivare un organismo che esaminasse i bilanci e gli atti ad essi connessi. La commissione, della quale fanno già parte tre funzionari dell'assessorato delle attività produttive, verrà integrata anche da un funzionario dell'assessorato dell'economia, a cui è stata già inoltrata la richiesta di designazione del nominativo che affiancherà i tre già nominati. Grazie!